Ciao Sandra, io sono il salutatore, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre. Ah beh, un saluto apprezzuotissimo a tutti i tuoi fan che mi seguono da secoli e ai raggiunti. Da sempre, tu sei una grande... Ecco, salutiamo, una sorpresa per te ti ho portato, la manina del salutatore per salutare tutti i tuoi fan. Ma fortissima! Grazie, sei una grande sei, ciao! Ciao, ciao! Ma che è mia o la ripuoi? No?